posizioni di buonsenso perché è chiaro che nessun italiano è a favore del mantenimento del regolamento di Dublino così come oggi perché è un sistema che il povero Alfano si è ritrovato a gestire il ministero dell'interno in un periodo storico particolare e ha deciso di farlo nel modo in cui probabilmente lui meglio intende la politica quindi vedendoci il lato positivo e il lato speculativo su cui adesso andremo a soffermarci quindi dal punto di vista della politica nazionale e della politica europea il vero problema che noi riscontriamo è la totale assenza di volontà da parte di quelli che sono gli stati più ricchi e che hanno contribuito a fare più danni all'interno di quei paesi di collaborare e di creare una politica unica europea io credo e su questo ritorno più volte nel lavoro parlamentare ma anche durante gli incontri che sul tema immigrazione ci si gioca il futuro e la credibilità dell'Unione Europea perché è del tutto inconcepibile vedere il grandissimo entusiasmo da parte della Germania, della Francia, dell'Inghilterra quando si parla di politica commerciale o di allargamento e vedere una grandissima volontà di mantenere la propria sovranità quando si parla di politica e di immigrazione o comunque si va ad intaccare quelli che vengono definiti affari interni dei singoli stati secondo i trattati io due settimane fa mentre eravamo in delegazione a Catania sono stato in collegamento ad una trasmissione inglese di Sky in cui mi hanno chiesto subito fa ma lei cosa pensa, fa ora cosa pensa del problema migrazione a livello europeo io gli ho detto senza pensarci due volte, ho detto io penso che uno dei più grossi problemi sia l'Inghilterra e il vostro governo perché prima è andato a depredare la gran parte dei paesi in via di sviluppo e nel momento in cui noi chiamiamo alla responsabilità il governo Cameron, quello che risponde noi abbiamo la coscienza a posto perché contribuiamo col Commonwealth o siamo uno dei primi contribuenti con l'assistenza ufficiale allo sviluppo che riguarda appunto la possibilità di creare condizioni di sviluppo nei paesi da cui la gran parte dei migranti soprattutto economici vanno via ma sappiamo che sono misure che generalmente convengono solamente alle multinazionali europee che ci vanno ad investire in questi paesi da qui nasce un enorme problema che va spiegato per competenze perché probabilmente molti di noi sentono parlare dell'Europa come se fosse un'entità unica e si confonde Commissione Europea, Parlamento Europeo, Consiglio Europeo, Consiglio d'Europa come se fosse tutto un'unica cosa allora l'Unione Europea ha tre organi principali che sono la Commissione che è una sorta di esecutivo e che finalmente quest'anno è riuscita a tirare fuori una proposta globale sul tema dell'immigrazione che più o meno sposiamo noi come Parlamento Europeo dove viene fuori la voce dei popoli europei però chi ha il pallino in mano, chi ha il vero potere decisionale è il Consiglio e il Consiglio è composto dai governi e degli Stati membri ora siccome il tema immigrazione rientra, palla tra gli affari interni e gli affari esteri che per trattati non sono di competenza dell'Unione Europea ma vengono appunto via un coordinamento europeo ma la competenza e la sovranità rimane in seno agli Stati e allora questo problema è un problema che noi ci ritroviamo davanti in continuazione nonostante ci sforziamo di trovare delle soluzioni è l'approccio listico sul report di cui è relatrice Cecil Chiengio e faccio dal relatore Ombra in questo report e stiamo cercando di lavorare nel migliore dei modi possibili è la direttiva Visti su cui io sono il relatore Ombra su cui Juan Fernando Lopez Aguilar ha proposto il visto umanitario che potrebbe essere un modo per sotterire all'assenza di vie legali quindi cercare appunto di far sì che vi sia la possibilità siamo andati in Turchia a parlare con gli ambasciatori che erano tutti favorevoli alla possibilità di fare delle richieste preventive ed evitare appunto di dare in mano a quelli che utilizzano le migrazioni come un grandissimo affare ci sono la revisione delle direttive sulle frontiere intelligenti ci sono vari elementi su cui stiamo provando a lavorare a livello europeo ma senza la concreta volontà dei governi diventa veramente impossibile riuscire a risolvere il problema e su quello serve e per quello serviva già da prima una grande coesione da parte delle forze politiche italiane nel ribattere la volontà ferria da parte di tutti gli stati del sud Europa nel cercare, non nel cercare, nel pretendere la collaborazione e l'Unione Europea soprattutto gli stati del nord nell'affrontare la tematica in maniera unitaria da qui passiamo a livello nazionale che forse probabilmente è quello più pepato perché è quello di cui si discute di più in televisione di cui si sente più parlare di cui si parla più per slogan e voi sentirete spesso e volentieri dire un immigrato ci costa 40 euro al giorno 35 euro al giorno l'italiano muore di fame mentre agli immigrati li trattiamo come pascià quante volte abbiamo sentito dire queste cose ecco, io lì mi ricollego a cosa diceva Elio un welfare distribuito noi abbiamo avuto la possibilità di visitare con la delegazione ma l'ho fatto anche come cittadino o come attivista cercare di capire come funzionano i centri parliamoci chiaramente per il ministero dell'interno per il governo italiano per chi ci gira intorno per chi gestisce quello che è diventato un business dell'accoglienza il fatto che si possa mantenere il livello più alto di occupazione dei centri è un grandissimo affare che fa girare tantissimi soldi a chi li gestisce perché poi di questa fantomatica quota di 35 euro all'immigrato in sé per sé vanno 2,50 euro barra 3 che è il cosiddetto pocket money che poi neanche ricevono in denaro ma gli danno in sigarette che rivendono sul mercato nero questa quota va alle cooperative o alle associazioni temporanei di imprese che gestiscono e che fanno sì che possano gestire posti di lavoro che fanno sì che possano gestire i centri perché dicevi tu il modello distribuito il modello distribuito è sicuramente migliore rispetto ad un centro improponibile come il Cara di Mineo dove stanno 4.000 persone che sono incontrollabili però rimane sempre a quel punto cioè è un grandissimo affare in un periodo di crisi riuscire a mantenere piene tutte le strutture pagate dal governo italiano per l'accoglienza e quindi fare girare questi soldi all'interno dell'economia all'interno dell'economia italiana